cos'è questa però vedete che qua c'è scendiamo proviamo a vedere è un dungeon dovrebbe essere un labirinto proviamo a vedere proviamo a vedere magari cioè non c'entra niente però quando vedi una roba cioè non puoi resistere a me viene la tentazione di vedere che cosa c'è attento che ne abbiamo visitato un altro simile ci sono gli spawner ok vabbè ma ora noi siamo molto più forti è molto buio però è veramente buio è anche intricato hai ragione Anna è proprio un labirinto dove sei? è pieno di ragni è pieno di ragni no 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 non ci voglio andare più io sono qua l'entrata non so se ci voglio andare più ragazzi non so se ci voglio andare più cioè magari in fondo c'è anche qualcosa di buono però ho paura cioè ci sono tanti ragni tanti veramente tanti ragni cosa c'è ragazzi non sparite di nuovo e non provate a sparire di nuovo non provatevi a sparire di nuovo non lo so non lo vedo quindi no non provate voi state fermi eh non fate niente eccolo eccolo c'ha la spada di telekill c'ha la spada di telekill c'ha la spada di telekill c'ha la spada di attaccare mi vuole attaccare con la spada di telekill l'ho visto ragazzi scappatevene scappatevene speriamo di aiutarti no 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 lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo infatti ti ammazza di un colpo non puoi fecese niente Anna Anna scappa sono scappato nel labirinto voi scappate per conto vostro scappate Laion mi ha ucciso 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 non non posso respawnare non posso respawnare non posso non posso nonostra uno io non c'è il pulsante per respawnare Grazie.